Ciao a tutti, sono Sara, ma mi trovate su Twitch sotto il nick Kurolili. Lavoro da diversi anni sulla piattaforma di Twitch e sono una variety streamer. Forse tra l'altro non sapete che in Italia il pubblico che segue gli e-sport è equamente ripartito, dato che il 51% della popolazione di persone che guardano gli e-sport sono uomini, mentre il 49% siamo noi ragazze. Ed è qui che entrate in gioco voi, perché potrete passare da essere semplici spettatori ad essere parte integrante del team di Fordzilla, il team e-sport nato apposta per i simulatori di guida sportivi. Io sono il capitano della squadra italiana e mi occuperò di reclutare i migliori di voi proprio a partire da questo weekend alla Games Week di Milano, quindi mi raccomando passate allo stand a farmi vedere di cosa siete capaci. Per maggiori informazioni potete seguire su Instagram e su Twitter teamforzilla, oppure il mio profilo personale sempre su Instagram KuroliliStream. Fatevi coraggio, mettetecela tutta e che vincano i migliori! Grazie! Grazie!